Chi noi abbiamo messo da tempo nel nostro pantheon, Gianfranco Miglio, poi verrà ricordato. Voglio solo citare una sua frase, che tanto tempo fa prefigurava già quello per cui noi oggi siamo qui a lottare. In Europa oggi esistono vere e proprie comunità politiche sempre più quasi indipendenti, talvolta in stretta relazione le une con le altre e sempre meno in sintonia con i rispettivi stati nazionali, che vivono anzi come una limitazione, sta parlando della padagna. Può suonare per alcuni come una bestemmia e per altri tra cui mi annovero come una speranza. Nel nostro futuro vedere, una volta finita l'epoca degli stati nazionali, la creazione di un nuovo spazio politico, di una struttura in grado di unire, rispettandone le diversità, tutti i diversi popoli europei. Gianfranco Miglio.